Si chiama Cleanbook, è un piccolo sito che vince la battaglia contro Facebook, il colosso di social network per eccellenza creato dal buon Mark Zuckerberg. E pensate che questo sito è davvero molto piccolo, nell'essere visitato non occupa molto spazio, ci si mette poco per raggiungerlo e sarebbe stato ideato da una guida alpina dove per l'appunto gli appassionati di free climbing possono ritrovare circa 70.000 vie di arrampicata in tutto il mondo e lasciare anche i loro commenti. È un sito davvero straordinario, meraviglioso, unico nel suo genere, in cui le persone possono interfacciarsi a qualsivoglia esigenza di tipo personale. È una sorta di sito in miniatura, ripeto, in cui ci si può veramente trovare a proprio agio. Potrebbe assomigliare a Facebook in qualche sua desinenza, infatti si chiama Book nella parte finale, anche se all'apparenza può riassomigliare per alcune persone, ma nei fatti è un po' diverso secondo la mia opinione. È un sito davvero straordinario, vi invito a visitarlo e a farvi un'idea di quello che poc'anzi ho trasmesso attraverso la mia voce. Voglio pubblicamente congratularmi con il creatore di questo pregiato sito, a cui vanno, ripeto, tutte le mie congratulazioni più strette, perché è riuscito a creare un prodotto fruibile a tutti, straordinario, piacevole, ma soprattutto che va a soddisfare tutte le esigenze dei clienti, tutte le esigenze degli utenti che frequentano il web, internet, per come lo conosciamo noi. Grazie, complimenti, un saluto e al prossimo video di Leonardo Italiano.